Negli anni 90, diciamo prima, tu hai lavorato in Rai, hai lavorato in Mediaset, hai lavorato a Tele Monte Carlo Ci sono stati dei momenti in cui eri richiesta da tutti magari e hai dovuto dire dei no di cui magari ti sei pentita O comunque sono stati dei no pesanti di cui non ti sei pentita, ma comunque no pesanti Allora, no pesante l'ho detto a Berlusconi, più che altro sul piano economico pesante Perché 9 miliardi, insomma, cosa? 9 miliardi Insomma, un'offerta che negli anni 90 era mastodontica 9 miliardi negli anni 90, Alba, dobbiamo riparlare delle tue scelte un attimo No, dobbiamo riparlare delle mie scelte, effettivamente non so che cosa facevo negli anni 90 Devo ripensarci, però in effetti, poi rivedendomi la storia del giovane Berlusconi, eccetera, eccetera Mi sono resa conto che forse non era una scelta così sbagliata Anche se poi penso che Berlusconi non mi avrebbe assolutamente imposto nulla Perché io con lui avevo un rapporto molto bello, io gli ho anche voluto molto bene E credo sia stato reciproco proprio perché era di grande rispetto Ma quando lui stava fondando Forza Italia, lui mi propose un contratto di esclusiva 9 miliardi per tre anni E io che all'epoca questi soldi certo non li avevo Gli dissi di no perché avevo paura che come vedevo succedere magari con Raimondo Vianello Maicon Giorno che erano stati sempre magari personaggi diciamo che avevano posizioni forse politiche ideologiche molto diverse Invece promuovevano tantissimo la campagna per Berlusconi Allora io temevo che questo contratto mi avrebbe magari tolto la possibilità di poter essere veramente libera Berlusconi accettò il no ma nonostante il mio no mi fece fare lo stesso Non mise un veto nei miei confronti Ma nonostante io gli dissi sono comunista Insomma c'è gente che adesso impallidisce a questa parola Scusate però io vengo da una famiglia di un padre partigiano Per cui insomma non credo che il comunismo in Italia sia mai stato Oramai non ci sono più i comuni c'è solo la coscia lunga della sinistra ma non c'è più la sinistra Però ho visto che la Schnein gioca calcio Sì 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 c'è stata una bella partita Come è andata? Ha fatto gol? Ha fatto gol su Assis di Renzi Ecco Ah davvero? Questo purtroppo non succede Però nella realtà La sinistra è una partita del cuore Con abbraccio è anche Affineazione abbraccio Sì 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 Tenetevi in campo più possibile Schierata in attacco insieme a Conte Meravigliosa Tutto ciò che non accade nella realtà politica accade in un campo di carne Per beneficenza ricordiamolo Per beneficenza Alleanza benetica Alleanza benetica Insomma io sono contenta lo stesso Comunque detto questo io per ragioni ideologiche non firmai Conte Ma lo stesso Nello stesso anno feci le cose più importanti della mia vita a Mediaset Cioè striscia la notizia Il telegatto Presentai il telegatto con 13 milioni e mezzo di spettatori Eccetera eccetera E poi la stessa estate con Valeriana Marini Serata mondiale programma più visto dell'anno su Rai 1 Sì 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 Grazie a tutti.